Ciao e bentornati sul mio casino creativo, cioè più che altro sulla mia scrivania incasinata Ok, oggi vorrei fare un vlog creativo, ma come prima cosa vorrei farvi gli auguri per il nuovo anno sperando che sia un anno sereno e per me, almeno per quanto riguarda me, che sia migliore dell'anno scorso perché non è che sia stato un bellissimo anno il 2016, quindi vabbè pensiamo positivo io sono una tipa abbastanza positiva diciamo, mi piace pensare sempre che vadano meglio le cose perché altrimenti davvero, qui c'è da spararsi un colpo in testa, scherzo Ok, allora, iniziamo subito dalla mia prima creazione del 2017 che è questa bellissima orchidea, cioè almeno per me è bellissima, poi non so, ditemi voi che ne pensate questa mi è stata richiesta da una mia cliente e spero che le piaccia, voleva qualcosa di giallo perché lo vorrebbe regalare, però è un po' screzzato di viola quindi niente, io ho realizzato questo, la palla non si vede, vediamo questa luce ma manco per idea, come possiamo fare, se la mettiamo da qua vediamo se si vede un po' meglio il fiore, insomma, niente da fare spostiamoci qua sopra, ok, così si vede decisamente meglio allora, ho realizzato questo fiore giallo, perché lo voleva giallo, screzzato di viola però io non avevo un colore sfumato così quindi niente, ho usato il cotone che di solito uso per gli amigurumi quindi sempre con l'uncinetto numero 2 ho fatto la lavorazione così gialla e poi ho usato un viola sfumato che poi alla fine è questo del centrale e ho fatto delle righine così, non so, spero le piaccia le ho fatte anche qua sotto, anche se non si vedono in questi petali qua comunque l'ho fatto un po' in tutto e poi il centrale l'ho realizzato viola poi ho fatto questo bocciolo non so con quale accento siti il capo sono un po' ignorante comunque ho fatto questo ho fatto con i tre petali e il centrale per fare il centrale ho fatto una pallina tipo amigurumi sempre con questo colore poi uno completamente chiuso che qui è ripieno comunque è praticamente una pallina amigurumi poi ho realizzato queste foglie qua sul verde che si abbinasse alla gutta perca che ho utilizzato, vedete qua per rivestire il ramo che ho realizzato con un filo di rame un po' spesso e poi ho messo anche questo bastoncino di legno colorato di verde per bloccare il fiore per tenerlo fermo poi ho usato questi sassolini bianchi che ho preso dai cinesi penso che siano non so, penso che siano sassi da giardino e poi questo vasetto sempre che avevo acquistato dai cinesi in plastica in altri che avevo realizzato l'avevo usato in cuccio allora questo l'ho riempito tipo fino a qua di sabbia poi ho messo un cerchietto ho tagliato un cerchietto di cartoni un po' spesso e l'ho incollato e poi ho provato ad incollare le pietre qua però non è che non sono riuscita a incollarle bene con la colla a caldo infatti alcune vedete che si muovono vabbè queste le ho messe un po' sopra si muovono ma spero che non è che lo dobbiamo capovolgere quindi penso che vada bene quindi questa è la prima creazione del 2017 cosa ne pensate vi piace se poi vi interessa sapere che tutorial ho seguito perché non è non è una mia creazione cioè l'ho fatta io sì però però non è uno schema mio ho seguito il tutorial di una ragazza che si chiama Maria Giovanna che ha un canale su youtube che comunque chi lavora all'uncinetto secondo me la conosce perché ha davvero tanti iscritti e se li merita perché è bravissima comunque vi metto il link del suo canale sotto nell'info box e poi potete trovare tutti i suoi tutorial tra cui anche l'orchidea quindi questa è la prima creazione in assoluto che ho terminato più che altro perché poi ne ho altre tre che ora vi farò vedere qua nella scrivania che sono incomplette ancora non le ho terminate qui c'è tutto il materiale o quasi tutto il materiale che ho utilizzato per l'orchidea allora come prima cosa sto realizzando questo fiorellino qua allora niente aspettate che proviamo ad avvicinare così non so se si capirà boh vabbè con questa luce gialla la vorrei comprare bianca ma non la trovo che palle forse mi devo cambiare la lampada direttamente niente questo è un fiore praticamente è lo stesso fiore che ho realizzato per la collana sì la collana all'uncinetto che avete visto magari vi metto il link nel qua sotto del video dove vi faccio vedere è sempre dello stesso colore e lo sto facendo perché vorrei farci una uff scusate ecco vorrei farci una collana vi faccio venire al mal di mare oggi lo so scusatemi dicevo vorrei farci un ciondolo non una collana un ciondolo da abbinare ai miei orecchini quelli che ho acquistato da da Arianna se volete vedere vi metto il link anche nel al video dove ve li faccio vedere li avevo fatti vedere in un video creazioni vabbè comunque vi metto il link sotto se li volete vedere che sono bellissimi sono su questo verde qua un verde militare e siccome comunque sono un paio di orecchini abbastanza importanti volevo realizzare un ciondolo un ciondolo che poi metterò in una catena lunga perché cioè non mi piace abbinare tipo collana e ciondolo cioè collana e orecchini abbastanza importanti altrimenti mi sembra di essere un albero di natale cioè troppo diventa troppo pesante la cosa non mi piace perciò se comunque faccio un ciondolo però lo attacco in una collana lunga comunque lontano dagli orecchini quindi cioè secondo me può starci bene ok quindi questa è un'altra creazione a metà che spero di termine in teoria l'avrei voluta usare la notte di capodanno la notte della vigilia ma non ho fatto in tempo a farla a terminarle quindi niente pazienza la userò in altre occasioni poi poi sto facendo un'altra spirale all'uncinetto con i cipollotti e vari vediamo un po' se riusciamo riesco a farvi vedere qualcosa di più ecco insomma qualcosa in più si capisce forse forse vabbè questa è ora la devo ancora terminare poi vorrei farci un video a parte comunque per farvi vedere tutte le le spirale all'uncinetto che sto facendo anzi una ragazza mi aveva chiesto anche se facevo un tutorial oddio non mi sembra così necessario nel senso che ce ne sono io ho seguito il tutorial di Sarubest se volete vi metto il link sotto nell'info box però se magari vi interessa non lo so se volete vedere un'altra insomma un'altra spiegazione diversa io ve lo faccio per carità mi fa piacere anzi però non lo so fatemi sapere se vi interessa il tutorial perché vabbè lei l'aveva fatta con le perlini io ci ho messo anche i cipollotti perline di diverse misure ma penso che comunque non cambia molto il procedimento è sempre lo stesso ok poi poi sto realizzando un altro paio c'è un paio di orecchini che mi ha richiesto una mia amica vediamo li spostiamo perché non si capisce niente gli mancavano un paio di orecchini sul bordo e quindi ecco ok sono praticamente all'inizio poi magari se riesco vi farò vedere l'orecchino terminato o comunque lo vedrete sulla mia pagina facebook credo proprio di cui vi metto il link sempre sotto ok queste sono le cose che sto realizzando voi invece cosa avete realizzato avete già terminato una creazione in questo 2017 va bene spero di non aver tappato perché stavo guardando scusate ma siccome sono mal destra metto le mani nel microfono e poi non si sente quello che dico non che dica cose importanti però se faccio un video le persone dovranno sentire le cavolate che dico ok basta smetto di blatterare vi auguro ancora un buon anno i buoni propositi di quest'anno sono di continuare a caricare almeno un video alla settimana come sto già facendo da un po' di tempo spero di essere costante anche perché comunque vorrei condividere con voi tante cose che sto realizzando che ancora non vi ho fatto vedere perché magari non le ho terminate ho tantissime idee da condividere con voi io spero che comunque vi faccia piacere molte sono cose all'uncinetto perché comunque alla fine è una delle mie più grandi passioni cioè l'uncinetto non lo so mi piace e adesso poi che ho iniziato a realizzare queste spirali all'uncinetto con le perline perché uncinetto e perline è il top per me non che il chiacchierino mi piace di meno alla fine non lo so a me mi piace fare il tutto ma voi qual è la la tecnica che preferite in assoluto cioè io forse è l'uncinetto però mi piacciono un sacco anche le perline anche il chiacchierino non lo so adesso mi sto adesso penso che riprenderò anche con il il soutage perché avevo iniziato e poi ho lasciato da parte perché avevo dei mercatini da fare che poi vabbè quest'anno proprio come mercatini non siamo andati bene per niente ma purtroppo c'è da mettere in conto anche quello va bene basta sto blatterando vi ringrazio per aver visto questo video vi ringrazio anche perché abbiamo superato i 5000 iscritti quindi un grazie enorme poi più avanti penso che vi farò una sorpresina un regalino vedremo devo decidere come quando e perché basta mi sto zitta ok ci sentiamo al prossimo video ciao